E' quello che voglio raccontare sicuramente i miei trascorsi infantili, quelli adolescenziali in cui ascoltavo la musica statunitense, quella della black music degli anni 70 prevalentemente. E' stato un amore cercare di esprimere per l'appunto queste sensazioni adolescenziali e riportarle con brani originali. Design Me sarà il titolo di questo album che uscirà il 24 novembre e sono già usciti tre singoli, l'ultimo appunto Feel Your Moments questo mese di ottobre, da lì un excursus a cavallo appunto a queste sonorità che vengono dagli anni 70 della black music, i miei omaggi ai grandi artisti che ho ascoltato. E' uno fra tutti il padre del soul e del funk James Brown che mi ha dato i natali musicali da questo punto di vista. Il sicuro Porto di Palermo è del mio essere siciliano, il mio calore interiore, la passionalità che noi siciliani mettiamo in quello che facciamo dal punto di vista artistico, quindi all'estero sai portare l'energia che viene dalla nostra Sicilia. Le aspettative? Riuscire a portare live in una serie di piccoli concerti inizialmente, questo nuovo prodotto originale, portarlo alla gente, dare gioia e spirito positivo. Grazie a tutti!